Buonasera, siamo quattro gatti, come dicevamo anche l'altra volta, perché purtroppo risultiamo rispetto a questo processo, quello che è in corso per il desaparecido Omar Venturelli, il cileno di origine italiana, la di Pavullo, provincia di Modena, che è in corso di fronte alla prima corte d'assisi a Roma, l'attenzione di pubblico, come abbiamo potuto constatare, come qua l'avvocato Gentili che segue questo come l'altro processo, ben sa, è scarsa, diciamo, e quindi questa è una delle regioni per cui abbiamo convocato già una iniziativa qualche tempo fa alla Casa Valdese, c'era appunto il pastore Antonio Adamo con noi in quell'occasione, tornato oggi e lo saluto con piacere insomma per questa partecipazione, perché appunto il primo moto che ci ha spinto a convocare questa iniziativa come l'altra è insomma stare vicino a un processo che si svolge in una grande solitudine e questa è una cosa che non va bene, perché non va bene per i familiari, qui è con noi oggi Ugo Venturelli, che era il nipote di Omar Venturelli e l'altra volta appunto, oggi non poteva essere presente, arriverà stasera, era con noi Maria Pazza e Venturelli che all'epoca dei fatti aveva solo due anni, come molti di voi sanno, era una bambina di due anni che è dovuta scappare dal Cile nel 73 con la madre, riparando in Italia, arrivando in un posto molto difficile insomma per loro, che era l'Italia degli anni 70, dove sono riparate appunto a Palermo, ricordavo l'altra volta che l'accoglienza della calda Palermo era stata scelta per ragioni anche di temperatura, è stata due bombe, le ho messe all'aeroporto di casa, il funzionario che è stato come dire interpellato nell'occasione era il capo mandamentale della mafia, Fresi andò da lui e gli disse perché? Chi ha messo queste bombe? Perché ci mettete queste bombe? E c'è qui con noi lì il Don Antonio dell'olio di Libera che ben sa cosa vuol dire la mafia e il capo mandamento disse un momento, ora mi informo, tornò dopo un'ora e disse politica è, dovete andarvene, dovete andarvene e questa bambina che allora aveva sette anni con sua madre che era già, iniziava ad essere ammalata insomma purtroppo è ammalata di un male insomma invasivo e questa bambina dovete scappare di nuovo e raggiungere Bologna dove vive oggi insomma e questa è la solitudine di questo processo, le racconto questi fatti per dire che oggi appunto Maria Pazza Venturelli poi Ugo leggerà questa lettera, ha scritto una lettera al Papa che verrà consegnata nei prossimi giorni, insomma credo domani se troviamo un momento, una pausa del processo per andare direttamente a consegnarla alla sala stampa vaticana perché il problema che sta sorgendo diciamo in questo contesto di solitudine è un problema abbastanza serio che si sta proponendo e riproponendo per tutti i paesi che sono stati coinvolti, per molti dei paesi che sono stati coinvolti da gravi fatti come questi dei golpi con tutto lo strascico di morte, di sterminio, di uccisione, di arbitrio che hanno caratterizzato queste stagioni ed è il problema di che fare dopo, è il problema della cosiddetta verità e riconciliazione. Su questo noi abbiamo un modello che è importante, che ha dato dei frutti molto significativi che è quello che anche allontana, diciamo colui che l'ha portato avanti il vescovo Desmond Tutu del Sudafrica, dall'arcivescovo di Santiago Francisco Cavier e Razzurizzi che invece è portatore di un disegno diciamo opposto, quello di un indulto senza nessun terreno vero di riconciliazione, cioè preparato come non si sa. È stato solo chiesto diciamo con un grosso e solenne tedeum a Santiago questo atto di riparazione con l'occasione del bicentenario che appunto ha come scadenza il 18 settembre di quest'anno, un atto di indulto di misericordia, però non accompagnato da quel lavoro che invece Desmond Tutu è riuscito a garantire in Sudafrica con un passaggio davvero importante per la verità, per la riconciliazione, per il risarcimento. L'azione di Desmond Tutu si articolava a vari livelli, insomma come molti di voi sapranno insomma era un'azione di riconoscimento intanto dei fatti, di amnistia per chi ammetteva di aver compiuto quei fatti e quindi pubblicamente di fronte alle vittime, agli eredi delle vittime, alle persone offese, ammetteva e chiedeva perdono. E un terzo livello che era quello del risarcimento che veniva in qualche modo garantito alle persone offese e colpite. Questo è stato un grande lavoro che ha coinvolto migliaia di persone e i casi appunto sono stati di 21.800 testimoni, cioè quindi un lavoro enorme che è stato condotto in Sudafrica e che è di modello anche per altri paesi. Sappiamo che appunto la gerarchia cattolica in tanti altri paesi sta cercando di coordinare delle attività che hanno questo tipo di binario, solo che appunto non avviene in tutti i paesi nello stesso modo. E ci fa veramente dispiacere che la proposta appunto di un indulto che è privo di questi sostegni e di questo viatico avvenga in un modo piuttosto insomma sconveniente, come dire in un modo anche offensivo se vogliamo a Santiago oggi. Insomma a Santiago, chi arriva a Santiago sa che al cimitero di Santiago c'è un lungo enorme muro come quello che purtroppo abbiamo anche in altri paesi che ricorda i morti. Ci sono da una parte i desaparecidos, i nomi dei desaparecidos e dall'altra quelli degli eckecutados, cioè dei giustiziati. Sono 4.000 nomi che stanno su quel muro. Per questi 4.000 nomi non c'è giustizia. Se non appunto alcuni pochi, episodici, momenti di giustizia che hanno avuto dei percorsi particolari. Non c'è giustizia, non c'è soprattutto nessuna forma di evidente possibilità di riconciliazione. Noi abbiamo di fronte ai nostri occhi, l'abbiamo scritto anche nel comunicato che abbiamo avviato, questo processo in concreto qui a Roma, dove questo PM, come li chiamiamo noi, questo fiscal Alfonso Podlec non mostra un minimo di ravvedimento, un minimo di pentimento, un minimo di volontà di incontro con chi ha offeso. Viceversa usa con arroganza tutti gli strumenti che ha a disposizione, offensiva, con arroganza tutti gli strumenti che ha a disposizione come difesa, anche di fronte a chi lo ha accusato apertamente, come nell'ultima udienza, di un ignobile ping pong che avveniva tra il momento della tortura e il momento successivo dell'essere sentito come testimone. cioè lui un testimone come Victor Maturana ha spiegato in modo dettagliato, preciso, molto forte che cosa avveniva quando veniva portato nella caserma e legato nudo con un cappuccio in testa su una rete metallica e lì torturato per varie ore e poi...